Goditi potere e bellezza della tua gioventù, non ci pensavi, il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassiti, ma credimi, tra vent'anni guarderai quelle teorecchie foto in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi, non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto a masticare un chewing gum per risolvere un'equazione agevolta. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle quattro di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato, tanna, non essere crudele col cuore degli altri, non tollerare la gente che è crudele con tu, lavati i denti, non perdere tempo con l'invidia, a volte sei in testa, a volte resti indietro, la corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi, scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti bonti. Rilassa. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchie. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzerai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproveratti neanche. Le tue scelte sono scommesse. come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza tenere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni anche se poi non li seguirai. Non legge delle riviste di bellezza. Ti faranno solo sentire orrei. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior regame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni i più preziosi rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e le stili di vita, perché più diventi vecchi, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giorno. Vivi a New York per un po', ma lascia la prima che ti indorisca. So, devi anche il trattamento per un po', ma lascia la prima che ti indorisca. Adesso, non fare partirci quei capelli, sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85 anni. Sei cauto nell'accettare consigli, ma sei paziente con chi li dispera. Pensa, i consigli sono una forma di nostalgie. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che vale. Ma accetta il consiglio. So. 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 Grazie a tutti.